Il PD deve ricominciare da zero, anzi da tre. Da un lato le parole ripartenza, riforma, nuovo inizio, idee, valori, contenuti sono sulla bocca di praticamente tutti gli esponenti a cui viene chiesta un'analisi della sconfitta. Dall'altro la segretaria regionale parla di lieve flessione e il presidente Gianni di un modello toscano per l'innovazione e la rigenerazione che ha consentito alla nostra regione, sono sempre parole di Gianni, di vivere un insuccesso minore che altrove. La prossima settimana è prevista una direzione regionale e si vedrà se la visione che ne uscirà sarà di bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Chi può forse rivendicare di più il suo modello è il sindaco di Firenze, dove il PD ha effettivamente retto. Basta inseguire i 5 Stelle, occorre guardare ai più deboli e alle periferie come abbiamo fatto a Firenze, dice il sindaco, il cui nome non è ancora tramontato nel toto segretario nazionale, raccogliendo tra gli altri l'appoggio del sindaco di Milano Sala. Prima i contenuti, poi i nomi ripetono come un leitmotiv idem e lo ripete Nardella, i suoi consiglieri e assessori. Il sindaco di Firenze ha anche altre gatte da pelare. Sostituire Federico Gianassi, assessore con le superdeleghe a bilancio partecipate e attività economiche, difficile avvenga però prima di chiudere la partita multiutility, e le pressioni che arrivano da Italia Viva dopo l'ottimo risultato fiorentino, specialmente di Stefania Saccardi, anche se non è stata eletta. Matteo Renzi, ancora in Giappone, invita sia lui che Gianni a fare squadra anche se nelle giunte non pretendo nulla, dice. E del resto Nardella non pare troppo intenzionato ad aumentare la presenza di Italia Viva nella squadra di governo. Una disponibilità a collaborare con il PD e noi siamo qui, abbiamo le nostre idee. Italia Viva è già in giunta, quindi siamo assolutamente costruttivi e pronti a lavorare insieme. Quanto alla Regione, Gianni ha archiviato per il futuro l'ipotesi Campolargo con i 5 Stelle dopo il rifiuto di questi ultimi, che avrebbe comunque escluso alleanze con il Terzo Polo. Nessun problema in Regione, rassicura il Presidente e anche la sua vice. Non c'è nessuna rivendicazione né nessun problema, anzi direi che sui punti nodali del programma del governatore è molto più vicino il Terzo Polo che alcuni esponenti del Partito Democratico. Per il resto, insomma, c'è una valutazione politica di una forza che si è affermata. Com'è naturale, insomma, senza avere troppe pretese, sarà certamente un interlocutore politico importante per i prossimi appuntamenti. Intanto Renzi ha convocato tutti domenica sera al Tascani Hall per festeggiare i risultati, così che nessuno se ne dimentichi. Saccardi, ospite d'onore, basta che sia dopo la partita, risponde a caldo la super tifosa che è in lei.